Buon pomeriggio a tutti e bentornati al nostro appuntamento a giornaliero sul nostro canale YouTube. Io sono sempre Tania e come ogni giorno io e le mie collega vi raccontiamo qualcosa riguardo la Sicilia. L'argomento di oggi l'ho pensato in realtà in maniera molto naturale. A quanti di noi è capitato di avere a che fare di interfacciarsi con qualcuno che non è siciliano e cercare di spiegare quello che per noi è essere siciliani, la sicilianità? È un argomento un po' ostico perché a noi sembra tutto scontato, le nostre usanze, i nostri costumi, il nostro ideoletto, la nostra lingua, il nostro modo anche di gesticolare, di spiegarci con le persone. Il nostro argomentare a volte però può sembrare un po' irruento, un po' violento, sembra quasi da fuori che siamo sempre arrabbiati per come parliamo. Bene, in realtà tutto quello che noi siamo, tutto il nostro essere, è il retaggio delle culture che si sono avvicendate in Sicilia. Per spiegare questo mi servirò delle parole di un romanziere siciliano che è Giuseppe Domasi di Lampedusa. Giuseppe Domasi di Lampedusa è autore di un solo romanzo, Il Gatto Pardo, un romanzo da una storia editoriale un po' particolare perché in realtà venne rifiutato da più case editrici e venne pubblicato un anno dopo la sua morte, quindi un romanzo postumo. Questo video non ha certamente la pretesa di essere nella recensione del libro, che è comunque un libro che o si ama o si odia, non è una lettura che lascia indifferenti, né tantomeno del film che ne venne tratto da Lughino Visconti. È semplicemente un modo per spiegare il nostro essere siciliani a chi non lo è e lo faremo appunto attraverso le parole di questo autore tratta dal romanzo Il Gatto Pardo di Giuseppe Domasi di Lampedusa. Prima di parlare del Gatto Pardo mi sembra doverò sospendere due parole sulla vita di Giuseppe Domasi di Lampedusa, duca di Palma e principe di Lampedusa, nato nel 1896 e morto nel 1957. Si formò su scritti illuministici e raccolte di relazioni militari, divenne narratore e solo nella seconda parte della sua vita, privo di contatti con gli ambienti letterari, compose un solo romanzo, Il Gatto Pardo, che fu rifiutato da due grandi case editrici e pubblicato dalla Feltrinelli nel 1958, su interessamento di Giorgio Bassani, ed ebbe un immediato grandissimo consenso di pubblico e critica. Siamo in Sicilia, all'epoca del tramonto borbonico. È di scena una famiglia della più alta aristocrazia esolana, colta nel momento rivelatore del trapasso di regime, mentre già il calzavano i tempi nuovi. Dall'anno dell'impresa di Mille di Garibaldi, la storia si prolunga fino ai primordi nel Novecento. Accentrato quasi interamente intorno a un solo personaggio, il principe Fabrizio di Salina, il romanzo, lirico e critico insieme, ben poco concede all'intreccio e al romanzesco, tanto cari alla narrativa dell'Ottocento. L'immagine della Sicilia, che invece ci offre, è un'immagine viva, animata da uno spirito alagre e modernissimo, ampiamente consapevole della problematica storica e politica contemporanea. Tradotto in tutte le lingue, il Gatto Pardo è ormai un classico della nostra letteratura. Siamo vecchi, scevagli, vecchissimi. Sono venticinque secoli almeno che portiamo sulle spalle il peso di magnifiche civiltà eterogene, tutte venute da fuori già complete e perfezionate, nessuna germogliata da noi stessi, nessuna a cui abbiamo dato il là. Noi siamo dei bianchi quanto è lei, scevagli, e quanto la regina d'Inghilterra. Eppure da 2500 anni siamo colonia. Non lo dico per lagnarmi, è in gran parte colpa nostra, ma siamo stanchi svuotati lo stesso. Questa violenza del paesaggio, questa crudeltà del clima, questa tensione continua di ogni aspetto, questi monumenti, anche del passato, magnifici ma incomprensibili, perché non edificati da noi e che ci stanno intorno come bellissimi fantasmi muti. Tutti questi governi, sbarcati in armi da chissà dove, subito serviti, presso detestati e sempre incompresi, che si sono espressi soltanto con opere d'arte per noi enigmatiche e con concretissimi esattori di imposte, spese poi altrove. Tutte queste cose hanno formato il carattere nostro, che rimane così condizionato da fatalità esteriori, oltre che da una terrificante insularità d'animo. Il Gattopardo conosce anche una trasposizione cinematografica del 1963 ad opera di Rochino Visconti, che ha visto come interpreti Bart Lancaster, Alain Delon e Claudia Cardinale. Il protagonista, Don Fabrizio Salina, trascorre le sue vacanze estive al sontuoso castello di Donna Fugata, che si trova in provincia di Ragusa. Se siete curiosi di saperne di più circa questo castello, uno tra i più belli e meglio conservati della Sicilia, troverete il link al nostro blog nella descrizione. L'idea di questo video nasce dalla voglia di dimostrare la mia vicinanza a tutti i miei colleghi e coetanei che in questo momento si trovano fuori dalla Sicilia e responsabilmente hanno deciso di non tornare a casa. Quindi il mio pensiero va a tutti voi e spero che con questo video possiate sentirvi un po' più a casa e possiate anche condividerlo con i vostri colleghi che probabilmente provengono da altre regioni per spiegargli il perché del vostro e del nostro essere siciliani e perché siamo un po' diversi dagli altri. Non bisogna mai vergognarsene, ma bisogna vantarsi sempre delle proprie radici e anche se si è fuori perché si è scelto di vivere la vita in una regione diversa, non dimenticarsi di mangiare. Grazie. 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 Grazie.